Besti oissere pedingungen auch hier bei der finalprüfung des dritten Tages da Mateos Junior Specials in Lamprechtshausen in einer Zeitspielprüfung für junge Reiter mit einer famosen Siegerin aus Italien, nämlich Nicole Rosconi. Nicole, complimenti per la tua gara. La tua Cavalla, fatte tutti bene. La mia Cavalla, diciamo che la vittoria è più sua che mia, perché davvero dato tutto quello che poteva dare, le devo davvero tanto. Mi ha aiutato tantissimo e l'ultimo errore è stato mio, però siamo riusciti a vincere comunque, era talmente veloce che sono riuscita a mettere dietro tutti gli altri. Ok, e per domani hai i Gran Premio, tu monti anche domani i Gran Premio? No, io domani credo di montare ancora nella Bassayang Rider perché diciamo che ho appena cambiato maneggio e non ho ancora saltato una gara così grossa e così impegnativa, quindi mi concentro di più sulle gare più basse per questo concorso. Come ti piaciuto questo concorso in Austria? Diciamo che è il primo anno che mi trovo qui e mi è piaciuto davvero tanto perché i percorsi sono abbastanza tecnici e l'altezza è giusta, però comunque bisogna essere competitivi per poter gareggiare in queste gare, non si può arrivare da sprovveduti e sono sicura che porterò a casa una bellissima esperienza. Per il momento mi sto divertendo un sacco, maggiore ragione dopo oggi, però ho montato anche l'altro giorno e mi è piaciuto molto sia il percorso dell'altro giorno che quello di oggi, anche la scelta della gabbia che io non avevo mai affrontato. ci ha messo un po' tutti alla prova, ecco. Diciamo che non ero così convinta di farlo, però alla fine ho detto vabbè, sentiamo il tutto per tutto e ce l'ho fatta. Ok, una poca lupa anche per domani. Crepi, grazie. 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 Grazie.